Il Covid-19 ci ha portato via un altro concittadino. A distanza di pochi giorni da Antonio Di Giorgio nelle scorse ore è scomparso anche Antonino Marchesani. Persona per bene e sempre disponibile, Antonino lascia un vuoto nel cuore di chi gli ha voluto bene un abbraccio commosso da parte mia e dell'intera amministrazione comunale alla cara moglie Raffaella, alla figlia Alessandra e al figlio Gianluca. Queste le parole del primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola. Lo scorso 10 aprile il Covid ha strappato agli affetti più cari il signor Antonio Di Giorgio, un grande lavoratore. Lo ricorda così il sindaco. L'ho conosciuto appena, sono diventato amministratore di questa città. Si occupava della raccolta differenziata dei rifiuti prima ai tempi di Napodano, poi per la Iele e quindi per la Sarim. Ha sempre lavorato con grande impegno, senza mai apparire e uscire sulla ribalta delle cronache. Un lavoratore di retroguardia, sempre pronto ad affrontare un problema, ma con il sorriso. Noi abbiamo bisogno di persone così, di grande valore. Ad Antonio dico grazie per tutto quello che ha fatto. Un grosso abbraccio commosso va ai familiari e a chi gli ha voluto bene per questa improvvisa scomparsa che ci riempie il cuore di dolore.